Cosa provi quando ti dicono che sei bellissima? Quello che provo ogni donna. Mi fa piacere. Perché ogni donna è bella. Ognuna a modo suo. Con la sua personalità. E oggi? Come ti sei svegliata? Oggi mi sento dinamica. E quindi onde. Sono sempre io. Ma ogni giorno diversa. Hai un parrucchiera a portata di mano? Il mio segreto è la piastra a onde di Bellissima. È facilissimo da usare. Decidi tu come ti vuoi. Onda larga, onda stretta. Funziona. Oh, abbiamo scoperto il segreto del look di Belen. Non c'è nessun segreto. È bellissima Vajimatec. Belen, un consiglio alle più giovani. Sì, te stessa. You are different. You are bellissima.